Dopo l'annuncio di Luigi Pavarese, nuovo responsabile dell'area tecnica in casa Barletta, il mosaico bianco-rosso comincia a prendere forma. Tutto fatto anche per la guida tecnica. Sarà Ciro Ginestra a raccogliere l'eredità pesante di Francesco Farina. L'ex Fidelisandria è riuscito ad emergere davanti ad una folta concorrenza. L'accordo, intanto, tra le parti verrà ufficializzato a stretto giro, con il tecnico reduce dalle sonoro di febbraio ad Altamura e Free Agent da domani. Superata questa fase, le attenzioni saranno rivolte al calciomercato. Dopo giorni di stasi, qualcosa comincia a muoversi. La dirigenza ha riallacciato i contatti con Andrea Petta e Nicola Loyodice, entrambi nel mirino di diverse squadre in Serie D. Sul difensore siciliano c'è il Trapani, mentre Altamura e San Marzano fanno sul serio per il fantasista barise. Il feeling tra Nicola Loyodice e la piazza barlettana in ogni caso è viscerale e nell'ottica di una trattativa potrebbe giocare un ruolo fondamentale. È chiaro però che per provare a recuperare il terreno perso nelle ultime settimane, la dirigenza bianco-rossa dovrà giocare a carte scoperte senza perdere troppo tempo. Lecito aspettarsi un contatto diretto tra le parti proprio in queste ore. In entrata, oltre alla suggestione a Matt Fall, che ha già vestito la maglia bianco-rossa in Serie C, il DS Pavarese ha sondato la disponibilità di Domenico Santoro, reduce dal campionato di Serie D vinto a Brindisi, anche lui con una breve parentesi a Barletta in eccellenza nella stagione 2016-2017. Grande attenzione anche al Parco Under da ricostruire completamente da zero il classe 2005 Giuseppe Venanzio nell'ultima stagione. Ad Altamura è più di una possibilità, mentre in uscita c'è Marco Cafagna. Dopo l'esordio nell'ultima gara della regular season contro il Fasano, il centrocampista classe 2007 verrà ceduto non proprio a cuor leggero al Bari.